Io sto facendo una campagna elettorale senza annunci perché i calabresi conoscono i problemi, sto studiando le soluzioni ai problemi, sto utilizzando la mia esperienza, le mie relazioni nazionali per fare della Calabria una regione bellissima, può esserlo. Allora recupereremo la fiducia dei calabresi quando cominceremo a governare, non servono le parole in campagna elettorale, servono i fatti quando si governa. Io sono impegnato a fare uno sforzo straordinario per dimostrare ai calabresi che la politica può essere una bella cosa e che i problemi si risolvono solo attraverso il governo e le istituzioni.